Scrivete, se avevi bisogno di qualcosa, fazemi sapere. Il 1978 fu un anno eccezionale. La nostra vita cambiò radicalmente. Dai, non c'è solo questione d'abitudine. Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Biglietti pa'l cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Ma tu le donne non le sogni mai. Tutto il resto passò in secondo piano. Madonna che occhi. Non mancia più. Guarda, 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 che occhi sbattuti. So io che il problema c'ha detto. Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fa in modo che possa incontrermi lì. Fossi innamorata? Sì, ma lui non mi vede. Come se fossi invisibile. Se uno pensa tanto a una persona, in una qualche maniera, questo pensiero può arrivare all'altra anche se lontana. shape, shape your booty. C forgurs, shape your booty. Ya4 sì 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 di dog cinque,...